Non crediamo che ad aver ucciso la mamma sia stato un membro della nostra famiglia. È impossibile che qualcuno possa essersi macchiato di un delitto così feroce e cruento. Il silenzio è stato finalmente spezzato da Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, i tre figli di Piera Paganelli, conosciuta come Pierina, ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre in un condominio a Rimini. Oltre al dolore per l'atroce perdita della madre, uccisa brutalmente con ben 17 coltellate da un assassino che sembra sfidare apertamente la famiglia della vittima, i tre vivono in un costante stato di terrore, preoccupati che l'assassino misterioso possa colpire di nuovo. Inoltre, devono affrontare i sospetti degli investigatori, che stanno esplorando la pista familiare. L'omicidio di Pierina rappresenta solo il culmine di una serie di misteri che hanno avuto inizio il 7 maggio, quando il figlio Giuliano Saponi è rimasto gravemente ferito in un incidente alquanto sospetto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dal condominio in cui, cinque mesi dopo, si è consumato il tragico delitto della madre. Giuliano Saponi era stato trovato in fin di vita sul margine della strada, mentre si dirigeva in bicicletta verso il suo posto di lavoro presso l'inceneritore di Coriano, intorno alle 5.20 del mattino. Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato che fosse stato vittima di un incidente stradale, forse investito da un pirata della strada che poi si era dato alla fuga. Tuttavia, le gravi ferite subite da Giuliano, per le quali è ancora ricoverato in ospedale, hanno spinto gli investigatori a considerare l'ipotesi di un attacco premeditato, specialmente alla luce delle gravi fratture multiple al volto e al cranio. Sebbene nessun colpevole sia stato ancora individuato, la madre Pierina e la sua famiglia non si sono arrese. Hanno presentato diverse denunce e lanciato appelli che, recentemente, hanno portato all'uscita di alcuni testimoni. C'è la possibilità che l'incidente e l'omicidio possano essere collegati, soprattutto alla luce del fatto che l'omicidio di Pierina sembra privo di movente apparente. La pensionata, che era separata da suo marito da molti anni, non sembrava avere nemici né alcun legame con individui dall'atteggiamento discutibile. Quindi non si può escludere l'ipotesi che l'assassino potrebbe aver agito per punire la donna anziana, ritenendola colpevole di aver interferito negli affari altrui e di aver cercato di scoprire chi fosse responsabile delle gravi lesioni inflitte a suo figlio. Inoltre, in questo scenario, emerge inquietante anche una telefonata anonima ricevuta dalla sorella novantenne di Pierina, che vive a Ravenna, quattro giorni dopo l'omicidio. La prossima volta sarai tu, le avrebbero detto degli sconosciuti al telefono. La sorella novantenne ha prontamente informato le autorità, ma le indagini non hanno rivelato alcun elemento significativo. La procura sembra essere convinta che la telefonata anonima possa essere stata un tentativo di depistaggio o di creare confusione nelle indagini. All'inizio, la pista familiare era stata privilegiata, anche alla luce dell'apparente movente passionale del delitto, suggerito sia dal tipo di arma utilizzata, un coltello, che dal grande numero di colpi inferti alla vittima. Tuttavia, nelle ultime ore, questa pista sembra perdere consistenza. Non ci sono elementi che possano collegare potenziali sospettati alla scena del crimine o giustificare il loro inserimento nel registro degli indagati. Per prima, i sospetti si erano concentrati su Manuela Bianchi, la moglie di Giuliano, poiché era stata lei a dare l'allarme dopo aver scoperto il cadavere della suocera. Pierina era stata accoltellata la sera precedente, al suo ritorno dalla preghiera dei testimoni di Geova nella sala del regno di Bella Riva. Dopo aver parcheggiato la macchina in garage, mentre saliva le scale che collegano i box al piano terra del condominio, fu aggredita dall'assassino. Il killer, presumibilmente con l'intenzione di confondere le indagini in merito a ciò che sembra essere un omicidio pianificato, aveva prima strappato la gonna e la sottoveste dell'anziana. Questo gesto sembrava suggerire una possibile aggressione sessuale. Quando le tracce di sangue furono scoperte davanti al garage del padre di Manuela, Duilio Bianchi, la polizia aveva sequestrato il garage e aveva condotto una perquisizione anche nell'appartamento del suocero. Tuttavia le analisi del sangue avevano rivelato che non appartenevano alla vittima e di conseguenza gli investigatori avevano rilasciato il sequestro dei locali. Nonostante ciò, l'attenzione delle indagini continua a essere focalizzata sulla famiglia. Sono in corso ulteriori approfondimenti riguardo a una coppia di coniugi che risiede nello stesso palazzo di Pierina. Questo perché il marito è indicato proprio come l'amante di Manuela, nuora dell'anziana uccisa e moglie del figlio trovato in fin di vita sul ciglio della strada. Tutto ciò contribuisce a creare una complessa rete di mistero all'interno di questo enigma.